Siamo alle solite, signori, grande fratello Hip, inoltriamoci nelle notizie che riguardano la casa perché adesso comincia a mettersi male per Geggia, perché lei sì, ancora non lo sa, ma fuori dalla casa è stata annunciata una notizia davvero brutta 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 nei suoi confronti. Non è da escludere a questo punto che il conduttore Alfonso Signorini ne parli giovedì 6 ottobre, quando ci sarà la prossima occasione per riparlarne, in occasione appunto della diretta. Gli strascichi legati all'uscita di Marco Bellavia, che non ha ricevuto sicuramente un bel trattamento da parte degli altri concorrenti, di questo ne abbiamo già parlato, però si fanno sentire e si faranno probabilmente sentire ancora a lungo. Una delle concorrenti del GF è sotto accusa ed è proprio Geggia che è stata spedita al Televoto Flash dalla produzione del reality come una punizione vera e propria. Insieme a lei anche Patrizia Rossetti, Lenoir Ferruzzi e Giovanni Ciacci, con quest'ultimo che è stato proprio eliminato dal pubblico. Ma ha rischiato grosso anche Geggia, visto che ha ricevuto solamente il 4% delle preferenze rispetto al 3% del costumista, quindi attenzione, stavano lì lì, e secondo me ha molto danneggiato la frase che ha detto durante la diretta, che pensava secondo me che non avessero sentito, ma vabbè. C'è stata la bufera, la bufera, con Geggia ancora all'oscuro di tutta una vicenda che sta assumendo contorni sempre più delicati. Il sito BG ha ricordato alcune parole proferite dalla donna sul caso Marco Bellavia, che secondo me è quella che appunto c'entra con questa cosa. Ragazzi, ma questo qui è pazzo, matto, è proprio malato. Ma state zitto, ascoltami, non parlare. Ora non c'ho voglia di farti da psicologa. Ho fame, non mi porta nulla di sapere che cosa hai avuto. Su, stai zitto oggi Marco, dai. Io ti do un consiglio da psicologa e anche da mica. Non parlare, che peggiori soltanto la situazione. Una serie di... cioè una frase piena di parole assolutamente negative, che non porta sicuramente da nessuna parte, anzi. In particolare a rilanciare la pessima notizia su Geggia è stata l'agenzia DIR, che ha fatto sapere a sua volta di aver appreso dell'apertura di un'istruttoria da parte dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, dove praticamente lei è iscritta all'albo, no? Questa la comunicazione ufficiale che recita e dice sono state inviate all'Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo motivo, come da prassi stessa, verrà aperta un'istruttoria. La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede vari mesi, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l'Ordine, verrà sicuramente affrontato. È capace che passerà del tempo per questa situazione, ma sicuramente prima o poi verrà trattata. Bici ha anche ricordato che molti utenti, anche Veronica Satti, avevano contattato l'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio con l'intento di far punire Giorgia, dicendo ci stiamo muovendo, insieme ad altre persone che si occupano di salute mentale stiamo facendo un esposto all'Ordine degli Psicologi del Lazio per radiarla dall'albo. Vedremo se queste cose saranno veramente prese in considerazione, ma questo è il quanto. Vi ringrazio per l'ascolto, per questo aggiornamento è veramente tutto. Se volete, like di supporto e ci sentiremo alla prossima!